Prenotato per sbaglio, lo ammetto. Forse è per questo che ho fatto un crifo. Penoso è dire poco e non stiamo parlando di Rocco Sifredi. Ditemi come può un hotel del genere avere tre stelle e ditemi come sia possibile che abbia una media di quattro pallini su TripAdvisor. La camera fa orrore. Vecchia e poco pulita. Muri, sedie, comodini sporchi. I corridoi non vi dico. Tutto sporco e vecchio. Tende, mochette e scorrimano. Corrimano. Da brivido. Per non parlare dalla colazione. Non vedevo una sala del genere dagli anni 90. Bimba paparabu. Bimba paparabu. Bimba paparabu. Affettati di pessima qualità. Torte penose. Cazzo, deve esserci stato un fantastico addio al nubilato la sera prima. Ma qua aspetta, qua aspetta. Succhi forforescenti. Ah, cavoli. Ma pensavo succhi il verbo. Vuoi un po' di succo? No. Ma come fa a essere aperto un hotel così nel 2019? Hai viaggiato nel tempo. Esatto. In realtà siamo negli anni 90. Allora, giudizio. Penoso, succoso e pieno di forfora. Esatto. Rocco apprezza. Allora, recensione. Una stella su cinque. Mai più. Mai più. Mai più in questa specie di albergo. Consiglio a tutti vivamente di non mettere piede in questa bettola. È danni che butto via la mia vita in questa bettola. Cia, 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 cia. Sarebbe da chiudere immediatamente. Infatti sono indeciso se fare una segnalazione alle autorità competenti per quanto accaduto. Chissà cos'è accaduto. Infatti, cioè, io dico, prima di fare una recensione simile. Entrate in camera. Una incredibile puzza di vernice invade le nostre narici. Una puzza di vernice invade le nostre narici. Chiediamo spiegazioni. E la proprietaria, molto infastidita, ci dice... Sono molto infastidita a voi! Che da poco avevano verniciato tutti i mobili. Chiediamo di cambiare stanza, ma anche lì la puzza... Si hanno verniciato tutti i mobili. Anche le altre stanze. Tutti i mobili. Era insopportabile. Alle nostre ulteriori rimostranze, dato che non era possibile dormire in quelle condizioni, la signora ci risponde, maiuscolo... Se non vi sta bene, cambiate albergo. Qui non si è mai lamentato nessuno. E qua, un appunto alla signora. Non si è mai lamentato nessuno, perché non hai mai ripitturato i mobili. Fino ora. Cazzo. Siamo letteralmente fuggiti da questo posto schifoso. Sto pensando di andare a pronto soccorso... A farmi refertare gli occhi irritati. E non escludo di presentare una denuncia e chiedere il risarcimento dei danni. Quando c'è troppo sensazionalismo... Le cose vanno... Già, a prescindere, vaffanculo a prescindere. Allora... Comunque, mai più! Mai più! Televisione sistemata in una posizione scomoda da vedere e non funzionante, è rimasta tale anche sotto reclamo. Spazzolino del bagno sporco è anche lui non cambiato, nonostante i nostri reclami. Arredamento obsoleto. Ma lo spazzolino... Evidentemente lo spazzolino del bagno non era obsoleto. Se la tv non funziona, è chiaro che è in una posizione scomoda. Non funziona... Se lo spazzolino del bagno è sporco, evidentemente non lo devi usare per lavarti i denti. Albergatore, vi consiglio gli spazzolini del bagno quelli scuri che si vede devono la merda. Esatto. Ma perché non inventano gli spazzolini? Io ce l'ho. Nero? Adesso sì. Recensione da una stella su cinque. Capelli su water e teli. E non erano i miei. Capito? Questo è il nostro benvenuto appena entrato in camera. Ho un pelo qua. Io ho trovato... Chiamando... Fiori e cioccolatini. Lui ha trovato... Lui ha trovato capelli. Capelli, proprio uno scalpo. E teli. Chiamando lo session. Esponendo il problema. Ci rispondono con una risata e dicendo che non possono farci nulla perché l'hotel era completo. Ma cosa vuol dire? Prossima recensione. No, stiamo ancora registrando. Stiamo registrando. Vergognoso. Punto esclamativo. Hotel pessimo. Hotel pessimo. Ho trascorso due notti praticamente senza dormire per la scomodità del letto sfondato. Lenzuola macchiate. Cumuli di polvere. E di spade. Direbbe Max Pezzali. Cumuli di brutte storie. Armadi rotti con viti arrugginite e sposte pericolosamente. Come se non bastasse. Puzza di muffa ovunque. Colazione scarsa. Niente di che. E deposito bagagli senza un minimo di sorveglianza. Sconsiglio vivamente di pernottare in questo hotel. Altro che tre stelle. Non se ne merita nemmeno una. Risposta. Ah, è risposta di questo. Eh, sì, sì, sì. Vai, vai, leggi tu. Io faccio quello che si lamentava. Giantele cliente. Mi dispiace per l'esperienza non positiva che hai riscontrato al nostro hotel. La recensione mi stupisce abbastanza. Abbastanza. Oh. Perché aveva una vita in un braccio. Perché la sua descrizione corrisponde a quella di un carcere sudamericano. Sudamericano. Perché? Perché? Andiamo a cercare immagini di un carcere sudamericano e vediamo se ci sono. A. Viti arrugginite. Soprattutto. Esposte. B. Letti sfondati. C. E prigionieri sfondati. Madri sfondate. Qualità pessima. È un altro hotel che noi sappiamo. Qualità pessima. Sto soggiornando da una settimana presso questa struttura. Dall'apparenza anche bella. Sto soggiornando. Questo fa la recensione ancora lì. Ah. Fantastico. Sto soggiornando da una settimana presso questa struttura. Dall'apparenza anche bella. Ma ahimè. Non si scrive così. Da niente. Ahimè. Mi sono dovuto ricredere. Scendo per andare in piscina. E nessuno mi chiede come, dove e perché sono qui. Probabilmente perché stai soggiornando da una settimana presso questa struttura. Fa tirare una cazzo di domanda. Sono andato per essere controllato perché io non so controllarmi in piscina. Totale sicurezza zero. E non mi controllano. Sono qui da una settimana. Sono già spariti cinque bambini. Basta battuta sulla piscina. Personale scortese, direttore dittatoriale, andate a leggere le recensioni su Maps. I turisti malcapitati che criticano come il sottoscritto vengono subito allontanati dalla struttura. Personalmente penso che le recensioni 5 stelle siano tutte palesemente forzose. Ma è solo un'opinione personale. Peccato perché il posto merita. Allora forse il posto merita. Quindi le recensioni a 5 stelle non sono forzate. Il posto merita. Ti piace questa recensione? Io lo prendo. Di che ti piace? No sì, mi piace. Di che ti piace? Mi piace, mi piace. Anzi così. Mi piace questa recensione. Comunque le nostre opinioni sono nostre. No, ma mi piace il fatto che quelli che si lamentano vengono allontanati dalla struttura, dal dittatore. E certo, il direttore dittatoriale. Li mandano nei pochi bagni che ci sono. Esatto, quindi. Ristorante. Vomito e diarrea per quasi tutti. Quasi. Quelli che non hanno né vomitato né diarreato è perché... Era finita. No, perché hanno mangiato nel ristorante di fronte. No, ma io pensavo che fosse proprio sul menù. Cioè, vomito e diarrea per tutti è un ristorante. Benvenuto. Sempre il giorno da Gianni. Prego, mentre aspettate le vostre pietanze, gradite un calice di prosciutto del vomito e della diarrea? Gradite un po'. Scusate. No, ma io non lo volevo, scusate. Scusi, ma tradizione. Scusi, ho finito il vino. No, ma volevo altro vino. No, volevo altra diarrea. Io ho quello. Scusi, ho finito la diarrea. Allora, il posto è esteticamente molto carino e camerieri disponibili. Sta di fatto che su otto persone, cinque hanno passato la notte tra vomito, diarrea e fibra alta. Spero sia stata solo una fatalità, ma di certo non torneremo a verificarlo. Una rotonda nella diarrea. Stavolta io l'ho già letta e lui la legge per la prima volta. Sono un vergine della lettura in questo momento. Esatto, ma nello stesso momento vorrei interpretare, voglio che tu goda di come io vedo questa persona. Non leggere, mi cambio un attimo. Ok. Guarda. Beh. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Maleducazione. Alcuni giorni fa mi sono recato alla dolceria Paldeitali e come da tante recensioni vorrei dire anche quello che è successo a me. Mi rivolgo soprattutto ai titolari della dolceria. Spero leggano. Premetto che i prodotti acquistati e già degustati erano veramente ottimi e i cannoli e i dolcetti ripieni di cioccolata. E a proposito di questi che vorrei farvi sapere quanta maleducazione ho trovato nei dolcetti. Sì, ho trovato da parte della commessa, quella con accento straniero. Non sapendo cosa ci fosse all'interno dei dolcetti, ho chiesto informazioni e questa mi risponde, c'è della carne, può mantenersi anche un mese. Non ho avuto il coraggio e sono stato zitto, ho pagato e sono venuto via. Ma cosa vuol dire rispondere? Hai chiesto e ti ha risposto. Se voleva fare dello spirito da cafona, era meglio che se ne stava zitta. Ah, perché gli ha risposto? C'è una risposta, c'è molto la carne. C'è molto la carne. C'è molto la carne, sono rimasto male, ho fatto una battuta da cafona. E forse se non sa stare al pubblico? Al pubblico è meglio che cambi lavoro, per il resto condivido con i tanti recensori la qualità. Però a me non mi ha fatto ridere, ma adesso c'era la carne in un dolce. E sei stata molto maleducata. Devo tenerli così gli occhiali. Mi rivolgo soprattutto a quello che ha scritto questa recensione. Spero stai guardando questo video. Che sono battute le nostre. Non c'è cattiveria, non c'è maleducazione. Non c'è maleducazione. Le brutte intenzioni e la maleducazione. Non stiamo ridendo di te, stiamo ridendo con te. Ma se per caso sei davvero vestito così... Scusa. Scusalo. Chiamano la ministra, ragazzi. Bene, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, condividete il video con tutti gli amici. E niente, se trovate recensioni abbiamo aperto un canale Tegra che si chiama sempre No Mamamazzo, dove potete caricare la recensione e noi provvederemo a recensirla. A recensirla, perché siamo recensori di recensori. A recensori.